bella ragazzi eccoci in questo nuovo video quest'oggi siamo in un anger games insieme a oggi siamo appunto in questo anger games che si chiama nightcraft se volete l'ip ve lo lascio nella descrizione siamo qui e tentiamo di vincere dato che prima ho vinto e non mi sembra di aver vinto con una grande difficoltà per cui speriamo che riusciremo a vincere il kit che abbiamo settato è miniere giusto giusto fede ok niente spero che mi sentite bene perché sto usando il microfono per cui se mi sentite un po malino scusatemi ma sto usando proprio le cuffie mentre di solito per il lag cosa per il lag scusate ecco ecco effettivamente anche un po per il lag vediamo quanti fps vado 27 io 5 calcolando troppo epico lui che va a 5 fps guardate io io l'avrei già buttato dentro le fogne il suo computer ma c'è avrei usato tutti i miei risparmi o per comprarmi una nuova ram oppure per comprarmi un macbook perché c'è se no come fai a giocare a 3 fps merda a natale a natale e natale può essere utile vediamo se risettiamo miniere in casa che non ci sono mai merda merda le casse non ho preso niente non ho preso niente che dove andiamo riprendere il legno prendi la tua no dai lo prendo anch'io merda è vero non mi ricordavo più che bisognava prendere il legno ma perché ma anche te lagga scusami a me non prendi blocchi dai 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 merda quanta linea ai quanta linea ai 4 4 io 5 6 bene così cosa cosa ok scendi 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 merda lagga merda perché mi lagga così ah ragazzi vi attigiamo vi avvisiamo già che io e fede usiamo hack per cui o merda c'è già gente che l'amore merda 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 che palle però si va troppo piano con sto kit guardate come si può vincere anche un altro punto dove non si lagga grazie a dio ma buono non lo so ma non sei sceso sì sì sto scendendo io vedo comunque quanti sei oddio meravamo pochissimi allora non è che ce l'ha o ferro 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 bene 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 nice nice oh nice oh nice bene dai oh non è mica poco ho già sei di ferro sette buono sette di ferro è buono cinque siamo a me sembra strano che eravamo partiti così pochi a me non mi prende il coso come il coso che cos'è il coso prende il pezzettino e c'è un leo killer che ti sta avvicinando da me carbone ed è una buona cosa bisogna magari mi posso fare tipo una scipadina muori muori leo killer muori vai via da qua è morto no 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 ma io lo state combattendo ma io sto scendendo tanto eh io sto cercando di scendere merda è che ragga un casotto si è spaccato su del piccolo ci si è già spaccato o no ragga ragga tanto è un buon server dopo lo riferisco al founder dovete sapere ragazzi che prima questo server ovvero nightcraft era un server normalissimo in cui io ero un come merda si dice un helper solamente che ci sono stati tipo dei problemi e allora è diventato un server hunger games praticamente io a questo punto sarei una specie di helper di questi hunger games anche se effettivamente non ha senso io vi ho detto che vi lascio l'ip in descrizione però ragazzi se magari quando entrerete voi non sarà più un server hunger games è perché semplicemente oh merda aspettate un secondo per favore è perché semplicemente i founder in questo momento se non mi sbaglio stanno penso costruendo la mappa per la prossima in prossima quando diventerà un server merda mi sto cagando sotto siamo in 3 oh ma sei morto ma sei troppo scarso merda oh adesso vedi che muoio anch'io no 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 farei una figura di merda no ma anche perchè io ho finito il piccone eh si non lo so ma io non ti ho visto giù da basso mi sto craftando una spada anzi due no non posso due sono troppo lento a craftare le cose io cioè sono una roba bestiale che merda è successo qui sono vicinissimi questi lì dove c'è la ceste se vedi una ceste sotto c'è la caverna quindi non ti consiglio no io non le vedo le ceste io sì boh non lo so si vede che sono da tutt'altra parte di dove eri tu prima che cosa che mi posso craftare di armatura con 5 5 niente merda sì posso fare gli stivali ma servono a niente beh se finisco così allora tanto vale mettersi gli scarponi se non ho abbastanza roba meglio che niente no sì ferro 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 no ma che sfiga no no aspetta aspetta mi crafto un altro piccone dai 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 merda mi spiace craftare no ma non posso craftare in ferro merda è ferro sprecato merda è vero in pietra certo sono proprio scemo ho sprecato un casotto di quanti siamo due due merda merda dai 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 che ce la fai anche se quello lì ha tutto tutto però ce la fai dai anche se quello lì ha ma come era quello che ti ha ammazzato forte non abbiamo ucciso un creeper no ma non ci credo che in un hunger games ti fai ammazzare da un creeper ma sei vergognoso merda vabbè allora io mi avvicino da uomo coraggioso anche ma guardate come lagga merda ragazzi lagga un casotto mi fa piacere che non sono l'unico che lo dico te lo dico io che vado a tre che merda ho vinto ho vinto bella raga ho vinto l'hunger games non so come come quel tizio sia morto sono veramente contento di aver vinto questo hunger games in vostra compagnia quest'oggi la fortuna mi ha baciato e niente ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao a tutti ciao a tutti